Il belga Kenneth Van Rasbeck potrebbe essere a breve ufficializzato come nuovo calciatore del Taranto. Il centrocampista, svincolatosi venerdì da Rimini, è giunto in riva all'Oionio nel weekend per aggregarsi ai compagni di squadra e svolgere i primi allenamenti. L'ufficializzazione dell'ingaggio insieme a quella del portiere Under Carriero classe 2001 dovrebbe esserci il 2 gennaio al momento dell'apertura del mercato dei professionisti da valutare l'impiego in campionato del belga in quanto per regolamento dovranno trascorrere almeno 30 giorni dalla sua ultima apparizione con la maglia del Rimini. Per quanto riguarda invece il difensore Petta, l'ex Sicula Leonzio avrebbe chiesto al club rosso-blu qualche giorno di riflessione per vagliare eventuali proposte dalla C. In partenza appare il centrocampista Kelvin Matute.